Non vogliamo svelare tantissimo, però questo caffè e latte davvero è in rampa di lancio, che cos'è? Eh, ci siamo, siamo per iniziare. Tra l'altro mi piace anche che a chi mi intervista sei proprio tu, ovvero il direttore di News24 City, che sarà molto spesso con me in onda. Iniziamo da martedì prossimo, 16 di febbraio. Saremo al mattino e faremo colazione semplicemente con la gente a casa. Parleremo di qualsiasi cosa. È un contenitore, quindi quante più cose possiamo metterci all'interno, cercheremo di metterci. Attualità, un po' di politica, cronaca, gossip anche, con lo sguardo naturalmente a tutto quello che è lo spettacolo, la cultura, un po' di tutto. Un put purri, glocale, mi piace dire, sia globale che locale. Uno sguardo al locale, uno sguardo al globale. Tanti saranno anche gli ospiti che si alterneranno. Abbiamo chiamato George Clooney, tutte persone di rango tipo lui, però purtroppo al momento ci hanno detto vediamo un attimino, cerchiamo di capire se riusciamo ad esserci, ma ne abbiamo già tanti, sia in collegamento che naturalmente anche qui in studio a Telesveva. Possiamo dare adesso allora un appuntamento, un appuntamento a quando la gente potrà trovare caffè e latte in onda. Allora, ci trovate la mattina a colazione con voi dalle 7.30 alle 8.30, il martedì, mercoledì e giovedì sul canale Telesveva naturalmente. Vi aspetto, anzi vi aspettiamo perché ci sarà anche Stefano, quindi in due, oltre tutti gli altri ospiti e via dicendo. Grazie. 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 Grazie.